Prosegue la protesta del personale dell'Unione dei Comuni, in particolare oggi hanno manifestato gli agenti della Polizia Municipale di fronte alla sede del Lente in Piazza della Vittoria. Presentata oggi alla stampa la mostra Ossessione Direzione Gioconda a cura di Franco Fossi. La mostra sarà inaugurata al Palazzo Pretorio di Certaldo il prossimo 12 maggio. Scalda ai motori il torneo dell'Oratorio di Empoli, giunto alla 29esima edizione, che quest'anno attese 47 squadre. Appuntamento questa sera a partire dalle 20.45 con la finale del campionato di calcio a 11 Wisp su Clivo. La partita si svolgerà al Castellani di Empoli e vedrà contrapposte Real Isola e Casa Culturale di San Mignato Basso. Venerdì 10 maggio, buonasera dalla redazione di Clivo News. Prosegue la protesta del personale dell'Unione dei Comuni. In particolare oggi hanno manifestato gli agenti della Polizia Municipale di fronte alla sede del Lente in Piazza della Vittoria. Sentiamo le loro ragioni nelle parole di Giovanni Iorio della CGL Funzione Pubblica. Ci sono problemi di funzionamento dell'Unione. I problemi di funzionamento dell'Unione si riverbero sulle condizioni di lavoro e anche sulla qualità dei servizi. E quindi sono forti i disagi per i lavoratori, soprattutto per quelli che poi stanno sulla strada, ma non solo. E quindi è necessario che alcune risposte, che peraltro vengono richieste da tempo, si possano in qualche modo ottenere nel più breve tempo possibile. Questa è una fase in cui i lavoratori manifestano il loro disagio, poi noi ci auguriamo che fra breve ci sia quella in cui si incominceranno a costruire le risposte che le persone attendono ormai da troppo tempo. Parlando soprattutto appunto della Polizia Municipale, quali sono le richieste? Beh, innanzitutto gli organici. È importante che gli organici siano adeguati perché la gente è andata via. Ci sono stati anni in cui si poteva assumere una persona ogni quattro uscite e col passare del tempo questa cosa ha creato tantissimi problemi anche in queste realtà e anche nei comuni che compongono l'Unione. E poi perché c'è bisogno che uffici fondamentali come quello del personale, come gli acquisti, la dotazione dei mezzi, il vestiario, siano adeguate alle necessità. Oggi non è così. Quindi i vostri auspici per il futuro sono di avere una migliore interlocuzione con l'amministrazione? Sì, quella è la base della soluzione dei problemi, ma che ci sia anche una linea, un indirizzo dell'Unione tale da porre con serietà la soluzione di questi problemi. Cioè che diventi una priorità rispondere un po' per volta, perché tutto insieme sarà impossibile, ma individuare un programma che nel tempo consenta di dare le risposte che sono possibili e che anche sono da un certo punto di vista anche necessarie. Ieri pomeriggio, presso la Sala Consigliare di Montaione, i carabinieri della Compagnia di Empoli hanno organizzato insieme alla locale amministrazione comunale un incontro con i gestori delle strutture ricettive del territorio per parlare del fenomeno dei furti. I militari dell'arma, nell'ambito della campagna per la prevenzione dei furti in abitazione, hanno dispensato consigli su come cercare di prevenire o quantomeno limitare il fenomeno presso gli agriturismi del territorio. Presentata oggi alla stampa la mostra Ossessione Direzione Gioconda a cura di Franco Fossi. La mostra sarà inaugurata al Palazzo Pretorio di Certaldo il prossimo 12 maggio. Vediamo. Sarà inaugurata domenica 12 maggio a Certaldo la mostra Ossessione Direzione Gioconda che racchiude una serie di opere, sculture e installazioni video a cura dell'artista Franco Fossi. Qui a Certaldo troveremo 55 opere tra quadri e sculture in cui non solo viene analizzato il mito della Gioconda in sé per sé ma viene analizzato il mito dell'arte, appunto del fare arte. È stata fatta una selezione veramente attenta delle opere veramente più sofisticate, più apprezzabili, più godibili a livello estetico proprio per dare uno spaccato di quello è stata la ricerca di Franco in questi 40 anni di attività dal 1971 fino a oggi. Una mostra inedita che sarà inaugurata domenica 12 maggio e che sarà visitabile fino alla fine dell'anno proprio perché nell'anno delle celebrazioni leonardiane abbiamo voluto rendere omaggio al Genio con una mostra diffusa che quindi si snoderà su tutti gli 11 comuni dell'Unione, del circondario dell'Empolese Valdelza dove l'ospite, lo spettatore, il pubblico, l'osservatore potrà seguire questo percorso artistico del maestro Franco Fossi con la sua mostra dal titolo Ossessione Direzione Gioconda. Franco Fossi, Empolese di nascita, inserirà lo spettatore al centro di un viaggio la cui navigazione sarà assistita concettualmente. A ogni spazio espositivo corrisponderà un preciso punto di vista da analizzare attraverso una serie di opere che in ordine cronologico e tematico porranno in essere sia il luogo fisico d'esposizione che il concetto posto alla base di quelle stesse opere per passare poi a step successivi in un work in progress da vivere evento dopo evento. Pensando a Leonardo che mi ha dato ispirazione con la sua Gioconda dove ho dovuto dal 70 al 71 cercavo di fare un elemento di riconoscibilità e quindi ho fatto poi questo elemento come sacralità assoluta e l'ho battezzata il DNA visivo della Gioconda che poi mi sono portato avanti negli anni con varie fasi chiamando i cicli del monalisiano. Martedì 21 maggio ad Avane in via Magolo si tirerà il confronto pubblico tra i quattro candidati a sindaco di Empoli. L'evento sarà ripreso e trasmesso integralmente in diretta da Clivo a partire dalle 21. L'incontro organizzato dal comitato di quartiere di Avane è rivolto a tutta la cittadinanza di Empoli per confrontare i contenuti dei programmi dei quattro candidati. Scalda i motori il torneo dell'oratorio di Empoli giunto alla 29esima edizione anche quest'anno attese 47 squadre. Vediamo. Si appresta a partire la 29esima edizione del torneo dell'oratorio Sant'Andrea di Empoli organizzato dall'associazione Monsignor Cavini anche quest'anno attese tante squadre e tanto pubblico. Quest'anno abbiamo 47 squadre suddivise in 7 categorie di età che vanno dai grandi dell'over 18 fino alle donne passando per i bambini, allievi, giovanissimi, juniors eccetera. L'avvio è previsto per il 22 di questo mese, di maggio e la fine come sempre verso il 10-12 luglio all'incirca. Un torneo che negli anni, oltre ad ospitare tanti atleti giunti ai vertici del calcio italiano e non solo, è diventato sempre più un punto di aggregazione per tanti giovani del circondario. Ormai abbiamo fama in tutta Italia, è un torneo importantissimo e un ritrovo veramente importante per i giovani di Empoli del circondario. Ci sono passati ultimi in ordine di tempo Mancini che è il top player dell'Atalanta ha 5 gol in Serie A nazionale italiana Piccini che ieri sera ha giocato la semifinale con il Valencia Isai che tutti conoscono al Napoli in Champions League Pucciarelli, Fulignate e tanti altri ancora insomma e tantissimi altri che sono andati in Serie C, Serie B quindi oltre il punto di ritrovo davvero importante davvero anche il livello alto di questo torneo di calcio a 7. Torneo ad oratorio che il prossimo anno si appresta a raggiungere i 30 anni di attività. Questo è un traguardo davvero storico e importante quest'anno è la 29esima edizione e quindi manca poco davvero quasi diciamo un terzo di secolo è davvero un traguardo che mai si pensava di raggiungere via davvero davvero bello Questa sera a partire dalle 20.45 appuntamento con la finale del campionato di calcio amatoriale dell'Empolese Valdelsa e della zona del Cuoio la partita che si svolgerà al Castellani di Empoli e vedrà contrapposte Real Isola e Casa Culturale di San Mignato Basso andrà in onda integralmente in diretta su Clivo con la telecronaca di Simone Cioni ed è proprio Simone Cioni nel prossimo servizio a fare il consueto punto sul calcio Wisp Vediamo È arrivato il momento tanto atteso della stagione Wisp empolese Valdelsa stasera infatti alle 21.45 al Carlo Castellani di Empoli comincerà la finalissima per il titolo 2018-2019 di fronte Real Isola e Casa Culturale San Mignato Basso che in semifinale hanno eliminato rispettivamente Ferruzza e Castelfiorentino per quanto riguarda l'isola non ci sarà lo squalificato Marconcini che salta questa importantissima partita per somma di ammunizioni dopo il cartellino giallo rimediato nella semifinale di ritorno contro la Ferruzza oltre a lui mancheranno anche i soliti Taddei e Kertuscia che devono ancora scontare le proprie squalifiche nella Casa Culturale di Mr. Matteoli invece l'unico assente dovrebbe essere Greco in Fortunato che non ce la fa recuperare neanche per questa finalissima da ricordare che l'isola è la sua terza finale dopo quelle vinte nel 2013 contro la CDP Limite e nel 2017 contro la Ferruzza mentre la Casa Culturale arriva per la seconda volta di fila al Castellani dopo la finale persa 2-1 lo scorso anno contro la Ferruzza stasera però non si gioca soltanto la finale che vi ricordo potrete seguire in direttissima proprio qui sui canali di ClivoTV a partire dalle 20.45 si giocano anche 4 importanti anticipi per la quarta giornata delle coppe post-season in Coppa Wisp alle 21.30 Stabia scendono in campo Le Cerbaie e Ponzano Ecco il studio nella Coppa del Circondario invece alle 21.15 al Graziani Montelupo si sfideranno Corniola Emetex Sovigliana 99 mentre per quanto riguarda la Coppa Promozione Amatori l'appuntamento alle 21.15 all'Arciano con Borgano Marcialla Sidi e infine in Coppa Amatori alle 21.30 a Fiano si sfideranno Fiano e Pitti Shoes Panini Spa ha consegnato a Fucecchio la maxi figurina del Giro d'Italia relativa alla collezione Panini dedicata al 102esimo Giro d'Italia una figurina su Fucecchio e Indro Montanelli che con il numero 6 prenderà posto nelle prime pagine dell'album vediamo Il Palazzo della Volta e la nuova torre illuminata di rosa più il volto di Indro Montanelli sono protagoniste di una figurina che troverà spazio nelle prime pagine dell'album Panini dedicato al 102esimo Giro d'Italia trovano quindi spazio alla storia di Fucecchio e del giornalismo italiano ovvero Montanelli è la sede della fondazione che porta il suo nome ma anche la modernità della città con la nuova struttura Il ciclismo per la Panini è importante Panini copre gli eventi sportivi più importanti mondiali e anche italiani il Giro d'Italia per il terzo anno è una collezione Panini su licenza ufficiale RCS ormai la figurina è una piattaforma di scambio generazionale quindi unisce grandi e piccoli noi diciamo bambini di tutte le età il ciclismo è fondamentale proprio come è un momento di condivisione di una passione che per certi versi è adulta ma può essere tramandata attraverso la collezione di figurine Adesso Fucecchio è pronta ad accogliere i ciclisti come tappa del Giro d'Italia che a detta di esperti quest'anno prevede un percorso molto insidioso Il Giro d'Italia quest'anno sarà secondo me anche come presenza di squadre a un livello ancora più alto del Tour de France e quindi la rivalenza di questo giro sarà grandissima quindi dobbiamo sfruttare al meglio questa grande opportunità che i corridori e le squadre ci danno che danno il Giro d'Italia per far vedere veramente il valore che ha questo Giro In onore al Giro d'Italia è stato creato un gelato dal colore rosa preparato con ingredienti naturali di origine italiana Il gusto si chiama Amore Infinito e appunto rappresenta in un gusto di gelato tutto il territorio italiano con prodotti e ingredienti tipici dell'Italia quindi abbiamo utilizzato arancia, nocciola e latte toscano e abbiamo dato la colorazione caratteristica del Giro d'Italia quindi questo rosa con un cioccolato che è un cioccolato rosa naturale quindi senza coloranti ma un cioccolato in particolare che si chiama Rubi Ciccio Caputo è il vincitore del 13esimo premio Emiliano del Rosso il numero 11 azzurro ha preceduto il centrocampista Crunic ed il difensore di Lorenzo la premiazione si è tenuta nella sala hospitality dello stadio Castellani sentiamo le parole del vincitore raccolte da Alessio Cocchi di PianetaEmpoli.it Già dall'anno scorso c'è stato un legame subito a primo impatto con Empoli con tutta la città riconquistare tra virgolette per il secondo consecutivo di nuovo questo premio per me è una cosa veramente importante che mi fa felice che mi riempie d'orgoglio ma penso che questo comunque è un premio che va anche dedicato a Emiliano perché la serata è dedicata a lui è un premio che rispecchia Emiliano si vede anche negli occhi e nelle facce di tutti i Lutras che Emiliano è là con loro quindi è un premio che vale doppio è un premio veramente importante a cui ci tengo veramente tu comunque ti sei un po' messo addosso alla maglia del leader di questa squadra ti sei un po' sentito il capoclasse di questa squadra già dallo scorso anno si vede che non è stata una scelta banale quella che tu hai fatto di venire qua di rimanere qua e adesso insomma di provare a condurre la squadra questa salvezza che per noi è uno scudetto ma io dal primo giorno che sono arrivato qui ad Empoli ho sempre detto che mi volevo prendere e mi sono preso le mie responsabilità sin dal primo giorno e ho continuato a farlo giorno dopo giorno trascinando i più giovani cercando di tirare il gruppo di dare sempre il massimo in campo poi capita sbagliare sbagliano tutti però l'atteggiamento deve essere sempre quello giusto sicuramente ci aspettano tre partite fondamentali per il nostro campionato noi domenica abbiamo dimostrato che ci siamo vogliamo combattere e lottare fino all'ultima giornata e tutti insieme per un unico obiettivo siamo alle notizie sul meteo sentiamo gli aggiornamenti per l'Empolese Valdelsa a cura del meteorologo Gordon Baldacci dopo la fase fredda ed instabile del precedente fine settimana tornano il cielo grigio e le precipitazioni a interessare seppur in maniera più blanda l'Empolese Valdelsa anche le temperature caleranno di nuovo nella giornata di domenica attestandosi ben al di sotto delle medie del periodo e a proposito di temperature ecco i valori minimi registrati stanotte Empoli 13 gradi Capraia e limite 13.2 Cerreto Guidi 11.9 Fucecchio 12.8 Montespertoli 10.9 andiamo a capire il perché di questo mese di maggio che continua a sembrare il mese di marzo dando uno sguardo alle mappe sinottiche ci mostrano la nostra penisola interessata da una perturbazione che nella giornata di domani muoverà i primi passi con il suo minimo barico che dal Mar Ligure si sposterà in serata verso la nostra regione nella nottata di domenica l'entrata di aria più fredda da nord aumenterà l'energia a disposizione della depressione che lentamente scivolerà verso le zone centrali della penisola favorendo un aumento dell'instabilità anche sull'Empolese Valdelsa passiamo quindi alla tendenza per il fine settimana nell'Empolese Valdelsa iniziando dalla giornata di domani sabato 11 maggio ci sveglieremo con un cielo parzialmente nuvoloso al mattino fino a nuvoloso nel pomeriggio dalla sera possibili deboli precipitazioni sparse e più probabili sull'Empolese venti di libeccio deboli tra la mattinata e il pomeriggio in rotazione verso est dalla sera le temperature le temperature minime in lieve calo e comprese fra i 9 e i 10 gradi massime in locale aumento con punte di 22 23 gradi domenica 12 maggio nottetempo ancora deboli precipitazioni stavolta estese anche alla Valdelsa cessazione dei fenomeni al mattino e cielo nuvoloso nelle ore centrali del pomeriggio nuovo peggioramento in serata con deboli e localizzate precipitazioni sparse soprattutto sul valdarno inferiore i venti tra moderati e forti ruoteranno verso grecale temperature minime tra i 10 e gli 11 gradi insensibile calo le massime che a fatica raggiungeranno i 14 15 gradi la tendenza per lunedì 13 maggio vede ancora un cielo nuvoloso al mattino con progressive schiarite dal pomeriggio accompagnato da forti raffiche di grecale in attenuazione dalla sera temperature minime stazionarie massime in aumento non ci sono altre notizie grazie per averci seguito Clivo News torna lunedì alle 19.40 grazie per la visione